Salve, siamo molto contenti di avere con noi Samira Alcariuti che è un giornalista italo-palestinese e cominciamo commentando questi ultimi tragici eventi, questa ulteriore escalation della situazione in Medio Oriente legata alla guerra a Gaza e quindi appunto questa strage che c'è stata di cooperanti occidentali da parte dell'esercito israeliano e poi l'attacco che c'è stato a Damasco contro il consolato iraniano. Sono avvenimenti che sono secceduti uno dopo l'altro in modo molto pericoloso ma sono legati a due notizie nascoste, nascoste per parecchie ore che non sono state pubblicate qua in Occidente o in Europa o non hanno dato molto risalto, una di natura spaventosa, e la cattura da parte della resistenza palestinese di un commando che è entrato dal confine con l'Egitto, cammuffato con l'aiuto del Shetben dei servizi israeliani e dei servizi segreti egiziani in un camion per la distribuzione degli aiuti umanitari andando verso nord di Gaza. Era diretto e comandato purtroppo lo dico con molta amarezza dal capo dei servizi segreti di Abu Mazen, Majid Faraj. Questa notizia è stata nascosta, non è stata pubblicata, non è stata discussa perché è gravissima e questo è stato pubblicato nell'ultima ore del massacro che stava avvenendo all'interno del complesso di Shefah. Sabato, il giorno, anzi domenica, il giorno di Pasqua, un altro episodio anche nascosto... Non ho capito benissimo la dinamica quindi dei fatti. È entrato un commando di palestinesi... Di palestinesi, uomini dei servizi segreti di Abu Mazen, catturati dalla resistenza. La resistenza ha catturato 16 persone e li sta interrogando perché ha pubblicato poi un comunicato ufficiale... Erano entrati travestiti da... Da cooperatori umanitari per distribuire il cibo, i camion dall'Egitto, da Rafah, cioè il varico che deve essere aperto da molto tempo ma sotto la direzione dei servizi israeliani. Per che cosa? Sicuramente per obiettivi politici, per colpire l'unità dentro Gaza e creare confusione e aiutare a catturare forse qualche dirigente della resistenza per dire la grande vittoria. L'è fallito completamente. La seconda notizia, perché è la cronaca del tempo che conta qua, è avvenuta durante il giorno di Pasqua. È stato bombardato con un aereo, con un drone, non lo sappiamo, da parte della resistenza dall'Iraq nel porto di Eilat, al confine con la Giordania, proprio al confine con la Giordania Sud. È molto importante perché è il più grande porto di Eilat per il sud di Israele. Ma non abbiamo visto alcuna immagine. Allora, siccome gli israeliani o questo governo di guerra è bravissimo nella creazione di propaganda, nell'atterare l'attenzione, è avvenuta nel mezzo il giorno di Pasquetta con il spaventoso atto contro la legge internazionale quando è stata colbita l'ambasciata iraniana a Damasco con la distruzione totale, al di là di quelli che hanno ucciso dentro, siano della guardia rivoluzionaria, è un'aggressione che è condannata da tutte le leggi internazionali perché è una dichiarazione di guerra, questa vale una dichiarazione di guerra fosse fatta dall'Iran o da qualche paese arabo avrebbe causato una guerra mondiale. Invece con molta tranquillità l'hanno fatto, imponiti e non le interessa assolutamente niente della reazione. Perché questa serie di fatti, di cronaca così drammatica è coronata purtroppo, uso questa parola. ho arrivato al massimo con questa strage oggi di aiutare gli operatori umanitari che sono stati uccisi. un australiano, quindi abbiamo l'Australia, un britannico, un polacco e un palestinese, un altro cooperatore che non conosciamo la sua identità né la nazionalità, oltre a ferite che ancora non si sa quante siano. È una strage ma di un'organizzazione che si chiama l'International Kitchen, che è un'associazione americana, una ONG americana, che d'altronde sta da mesi fornendo del cibo ai profughi o agli sfollati israeliani da parte di Gaza, che sono nei vari alberghi, e ha offerto gli aiuti umanitari lì, e che ha diretto dal mese scorso la prima, diciamo, quantità di aiuti alimentari e oggi, o ieri, oggi, la strage di oggi ha atteso la prima nave che è arrivata via Cibro per lì al porticello per scaricare gli aiuti umanitari dalla nave. Loro hanno colbito queste tre macchine, le hanno uccisi, conoscendo benissimo chi sono e chi erano dentro. Uno per uno, Al Jazeera ha dimostrato. Viene tutto questo con la notizia clamorosa ieri della decisione del Parlamento israeliano nella sua ultima seduta di proibire e mettere fuori legge al canale Al Jazeera e tutti i giornali stranieri che possono costituire pericolo per la sicurezza di Israele dentro i confini di Israele. Il pubblico deve sapere che Israele è l'unico Stato, forse, nel mondo che non ha definito ancora i suoi confini fino ad oggi. Non ha confini precisi. Lui vuol dire che questa terra nostra noi siamo qua da 3.000, 6.000, non so quanti mila anni e quindi è il confine del nostro paese. Questo quadro tragico per che cosa? Per nascondere un grande eccidio, una grande strage nel complesso di Cefà. Le cose, i cadaveri mostrati, 300 mescolati insieme brandelli, una cosa spaventosa, insopportabile. E guardarla, tutto questo per che cosa? Per intimidire, intimidire, fare spaventare la gente, mettere paura dappertutto, europei, stranieri, internazionali, chiunque, questo è lo scopo principale dal momento che c'è un'entità statale che si considera al di sopra di ogni legge, al di sopra di ogni regola internazionale, al di sopra degli accordi di Ginevra, al di sopra di tutti gli accordi internazionali e delle leggi internazionali. Con un punto interrogativo. Perché non è stata pronunciata neanche una sola parola tuttora? Quante ore sono passate da parte di chi deve parlare realmente? È un dialogo con le stragi o messaggi con le stragi o che cosa? E tocca attendere le prossime ore il sviluppo di questa esclesione, estensione di un'aggressione che finora ha fatto 32.900 morti palestinesi, l'ultima statistica di tre ore fa. Ma secondo te il governo Sharon vuole ampliare la guerra anche all'Iran? Oppure perché questa... Il governo Netanyahu? Scusa, sì, il governo Netanyahu. Il governo Netanyahu non intende in nessun modo attaccare l'Iran. È una grande bugia perché non può attaccare l'Iran. Il governo Netanyahu vuole coinvolgere gli Stati Uniti d'America in una guerra contro l'Iran. Deve coinvolgere l'America, inguagliare l'America perché comanda in America Netanyahu è il suo. Sta in attesa elettorale che sa benissimo che arriva il suo amico. Ma chi lo vorrebbe servire più di Biden? Biden gli ha fatto tutto, gli ha dato tutto. Biden adesso invece di condannare, invece di prendere una misura, Biden sta preparando per fornire a Netanyahu nei prossimi tre giorni la notizia di mezz'ora fa, 18 miliardi di dollari armamenti, di tutti i tipi armamenti. Questi dopo gli altri miliardi versati il mese scorso, a febbraio, non so quanto l'ha dato. Ma adesso è uscita la notizia, c'era un corrispondente di Al Jazeera alla Casa Bianca che ha dato la notizia che un commentatore da Washington che l'ho visto adesso 5 minuti fa prima di entrare qua per parlare con voi, 18 miliardi di dollari, questa è una delle rate per comprare F-35, F-16, missile vari, più di così. Ma quindi secondo te gli Stati Uniti, Biden, sarebbero favorevoli a questo ampliamento del conflitto anche all'Iran? No, loro non sono favorevoli in via di principio perché hanno paura per i loro piani in questa zona qua, in Asia. Non è un scherzo. Se lo spieghiamo meglio, bisogna spiegare le cose. scusami, bisogna spiegare le cose con molta calma. In via di principio, loro sono d'accordo però sul modo. Loro vogliono seguire i loro piani. Che vuol dire questo? Vuol dire che va bene, Rafah, voi non entrate a Rafah perché non possiamo fare un'altra figuraccia. Questa è tutto un gioco tra di loro che sta fuori della comprensione mondiale perché la politica si fa in un modo e la guerra si fa in un modo. L'unico paese che può fare la guerra come vuole lui e la politica come vuole lui è Israele perché sa benissimo che nessuno li può fermare e per il primo non lo fermano gli Stati Uniti e l'America. Ma l'America nella presenza della guerra dell'Ucraina, nella presenza di tutto quel peso degli avvenimenti anche nel Mar Rosso con l'Iemen non può permettersi l'uso adesso di coinvolgersi in un allargamento che vuole Netanyahu. Che può fare contro l'Iran? L'Iran non è Gaza Gaza in tutto sono 320 km quadrati solo questo ma l'Iran è un contenente un contenente ma come fa Netanyahu ad attaccare l'Iran? Allora usa nucleare allora e questo vuol dire una minaccia di usare nucleare allora c'è una paura per il nucleare da parte della Russia ma non c'è una paura del nucleare da parte di Israele allora questa l'ipocrisia della politica americana la non verità della politica americana quindi tentano di trattenerlo un po' ma per assecondarlo poi in un'altra occasione hanno detto colbisci colbisci è duro per vedere la reazione per giustificarsi però si arriva a un certo punto che bisogna attendere di tutto perché l'Iran non può permettersi l'uso di stare zitto pure questa volta dopo questo gesto che hanno fatto in Iran roba da fare preoccupare veramente il mondo e chi estende la guerra e la allarga è Netanyahu e lui è responsabile ma visto che 33.000 morte palestinesi e più di 80.000 feriti non interessano a nessuno può fare suoi comodaci come le sta facendo ma i paesi arabi come per esempio l'Egitto di cui parlavi prima ma anche che ne so l'Arabia Saudita sono favorevoli a questa guerra verso l'Iran oppure è una cosa di Israele e basta questi sono governi regimi signor sì non hanno politica loro sono ciecamente filo americani sono paesi riazionari hanno la politica contro i loro popoli sono regimi dettatoriali tutti tutti sono esclusi e per primo io non escludo nemmeno l'autorità nazionale palestinese tutti seguono l'amministrazione americana la volontà dell'amministrazione americana chi sta dando mano a Israele il regime egiziano sta guadagnando da questa situazione però c'è un popolo egiziano i popoli arabi come tutti i popoli liberi sono a fianco del popolo palestinese e la sua causa questo è più che naturale perché non si può credere che coloro che vengono al di là di tutti gli atlanti di tutti i mari vengono a fare la loro politica mentre la gente dell'aria non può permettersi l'uso di essere partecipe che un popolo che viene massacrato davanti agli occhi del mondo c'è una sola speranza che il movimento di soldarietà con resistenza palestinese cresca ancora di più soprattutto qua in Europa i palestinesi non pretendono né eserciti né aiuti militari né armi pretendono soltanto misure misure politiche per costringere Israele a cambiare questa follia a abbandonare questa follia e questo è molto importante c'è qualcuno che prende in giro o dà lezioni per esempio dicendo ah badatene bisogna isolare Israele l'università è un posto dell'accademia ma la scienza è l'università dove sono nati signore miei l'università più antica della terra del globo della storia e l'università di Baghdad al Mustanseria l'università nel Medio Oriente il mondo accademico si deve dire la sua parola ma non per la fabbrica di armi non per la fabbrica di mezzi di quando la società israeliana sente la pressione di un boicottaggio nell'università o economico e si comincia a toccare i suoi interessi allora la società israeliana che non fa niente per fermare Netanyahu può cominciare a sentire il peso dell'atteggiamento internazionale nessuno vuole fare guerra a Israele ma costringerlo a sottostarsi alle leggi internazionali sì e questi governi hanno il dovere di fare questo non hanno il dovere di essere così paurosi e così intemoriti da una signora che si chiama Netanyahu che sta compiendo un eccidio e un sterminio del popolo palestino scusa ma secondo te questo non ho capito benissimo Netanyahu vuole mettere in difficoltà Biden perché preferisce la vittoria di Trump oppure non c'è questa contraddizione no no ma non non interessa parecchio delle elezioni americane figuriamoci che chiunque viene senza pagare la tassa prima non arriva alla Casa Bianca sia Biden sia Trump sia chiunque ma questa storia solo vuole coinvolgere l'America militarmente per attaccare l'Iran dove non può fare il lavoro non lo può fare con che cosa lo fa attaccare l'Iran intero allora dice abbiamo avvertito Hezbollah ha paura di Hezbollah se sei mesi di massacro di questo attacco contro i civili perché la guerra contro chi la sta facendo contro i bambini contro le donne contro la popolazione sfollati sei mesi non ha realizzato un solo obiettivo dei suoi non ha demolito Hamas non ha liberato gli ostaggi non ha posto la sicurezza israeliana all'interno di Gaza non ha occupato nulla nessuna opposizione sta minacciando Rafah Rafah vuole fare una strage davanti agli occhi del mondo ecco perché deve oscurare Al Jazeera e definirla un canale terrorista quando è mai successo l'altro ieri l'anno scorso hai ammazzato la giornalista di la soluzione la soluzione la soluzione si parla alcuni dicono che la soluzione è due stati due popoli altri invece dicono un solo stato come è successo in Sudafrica quando è finito l'apartheid uno stato per tutti secondo te è questo trent'anni il popolo palestinese che sta sperimentando gli accordi di Oslo che hanno chiamato a due state per due popoli in trent'anni cosa è stato fatto? nulla abbiamo autorità nazionale nessuna elezione del 2006 quelli che non votano nessuno può fare un governo del popolo palestinese al posto del popolo palestinese che sta lottando a Gaza per la libertà e l'indipendenza di un popolo lui che decide che forma politica sarà formule vecchie che portano questo o quell'altro hanno già nominato il presidente per vedere il giorno dopo e questo non è mestiere né degli americani né dell'occidentale né di nessuno è il dovere del popolo palestinese se ci sono le leggi internazionali e non ci sono le leggi internazionali allora sono manovre tattiche e giochi di parole che non servono a niente e non risolvono nessun problema e hanno creato questo problema domani troveranno questo problema moltiplicato per mille altro e peggio mille volte della situazione attuale scusa l'ultima cosa questa contraddizione di cui parlavi tra la np e la resistenza è una contraddizione pure all'interno del popolo palestinese o come reagisce il popolo palestinese di fronte a questa contraddizione a questo contrasto se c'è la possibilità di un referendum di elezioni libere in cui parla del popolo palestinese intero è la sfida al mondo andate a vedere che esito avrà il voto il voto che avrà il popolo palestinese e tutto con la resistenza non con l'autorità nazionale ultimo sondaggio non ha raccolto più dell'8-9% non ha popolarità e in queste condizioni figuriamoci dopo e questo non esiste ha fallito questo progetto soltanto che il presidente Abu Mazen farebbe bene a mettersi a parte da parte e lasciare l'occasione a più giovani alla dialettica interna perché il popolo palestinese sta a risolvere i suoi problemi l'uno con l'altro perché non dimentichiamo che il governo di Hamas è eletto ha avuto la maggioranza nel 2006 più in Cisgiordania che a Gaza Hamas ha preso una maggioranza più in Cisgiordania che a Gaza questo è l'esempio però lui da 16 anni non vuole fare le elezioni e una parte della colpa della situazione attuale ricade proprio a Abu Mazen perché se l'avessi fatta queste elezioni tre o quattro anni fa impedendo il deteriorarsi di questa situazione dare svago a Netanyahu fino a questo punto avrebbero sbramiato la vita di Migliaia invece di criticare adesso chi ha deciso di fare il 7 ottobre questa è la storia del popolo palestinese da 75 anni che soffre non dal 7 ottobre da 128 anni è cominciata la causa palestinese non dal 7 ottobre un po' di storia serve ogni tanto va bene grazie grazie allora ci risentiamo spero presto per 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 gli ulteriori quando vuoi quando vuoi grazie a voi grazie anche a Hakim che